e questo è il motivo i vecchi e l'architetto e il tv ma non è che talvolta anche dei leggi ma la fila deve essere di tramutare le responsabilità a questo punto forse analizzano le parole che diceva poi Umberto sono d'accordo che la definizione è infelice il termine è infelice però credo che la responsabilità è vero che la responsabilità nella scelta di spazio a me mi è piaciuto quando si può perché il raccomandismo è sempre lasciare cosa viene preso appunto di condizione o di raccomandamento il punto vero è che la società deve avere la responsabilità di dare l'accento di prendere pazzi ma anche di asciugare dal punto di vista quando qualcuno diceva i tempi abbiamo avuto tutti noi non so far sentire che non sono in voglio dire quando parliamo sarebbe piaciuto se noi ci fossimo sentire grazie a tutti l'accento l'accento